Sull'ospedale Maltauro il sindaco di Chieti Umberto Di Primio non si dice contrario a priori chiedendo però risposte certe che vadano nella direzione dei cittadini e del miglioramento dei servizi sanitari. Ad oggi nessuno ci ha ufficialmente chiesto che cosa pensiamo come amministrazione comunale di un intervento che dovrà essere fatto sulla nostra città. Forse qualcuno dovrebbe comprendere meglio che quando si interviene anche se con strumenti speciali comunque le amministrazioni vanno coinvolte. Quanto all'investimento sull'ospedale. Io dico molto chiaramente da sindaco della città che sono pronto ad ascoltare a ricevere qualsiasi iniziativa che possa portare in città investimenti soldi e realizzazioni. Chiaro questo non vuol dire dir sì a quella proposta così come non dico no a quella proposta a priori o per partito preso. La dovremo leggere, la dovremo capire, dovremo comprendere se quello che viene proposto è per davvero un beneficio per i cittadini e per la comunità e poi potremo esprimere in modo compiuto il nostro pensiero e quindi anche aderire eventualmente a quella proposta. Dico che sulla sanità dobbiamo smetterla, la deve smettere la regione di giocare con i presidio spegialieri mettendo l'uno contro l'altro armati, la deve smettere chi pensa soltanto a dire no guardando alle pulci ma poi non comprendendo la reale difficoltà e l'enormità delle problematiche di politica sanitaria e soprattutto guardo a quello che oggi viene fuori dal decreto Lorenzin. Noi dobbiamo immaginare che nell'area Chieti-Pescara ci sia una non subalternità dell'uno rispetto all'altro ma ci sia la possibilità di dialogare per costruire un'azienda sanitaria che abbia la forza di diventare un DEA di secondo livello. Questo è il tema sul quale io mi vorrei confrontare.